benvenuti a tutti anche oggi in un nuovo video oggi prepareremo la coppa malù fatta in casa vi dico subito gli ingredienti che vi servono mezzo litro di latte 50 grammi di farina 40 grammi di burro 40 grammi di cacao amaro e 75 grammi di zucchero iniziamo mettendo nel bimbi mezzo litro di latte 40 grammi di cacao 75 grammi di zucchero 50 grammi di farina ed infine mettiamo 40 grammi di burro azionate il vostro bimbi per 9 minuti 80 gradi velocità 4 una volta pronto versatolo nelle coppette e lasciate raffreddare completamente prima di andare a decorarlo allora come vi dicevo lasciate raffreddare completamente o in frigo o a temperatura ambiente basta che sia completamente freddo prima di andare a mettere la panna ci vediamo dopo una volta fredde sono pronte per essere decorate con panna e decorate con un po di cacao sopra ecco qui pronte le vostre coppe malù io spero che questa ricetta vi sia piaciuta vi posso assicurare che il gusto è veramente resistibile se la ricetta appunto vi è piaciuta lasciate un like se non siete iscritti iscrivetevi perché ogni settimana ci sono sempre video nuovi da di tutto e di più è tutto ci vediamo presto al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti